Ciao ragazzi bentorni in questo mio nuovo video Oggi facciamo skin challenge Dopo aver fatto tutte le missioni ci vuole una bella challenge Allora noi mettiamo una bella skin così Vertex Vabbè è leggendario Però no in partita ci do un'altra skin Quindi tranquilli Calma calma E se ne facciamo il ballo che è fighissimo Oh sto ballo c'è un sacco con Vertex Attenzione è proprio lui A me non piace il rumore perché è troppo Però il ballo si Ok sono pronto Ragazzi vi aspetto fra tre giorni oppure due giorni Poi vi faccio sapere domani Che così scioppo il ballo Quella del brum brum Sarebbe motorino Se facciamo skin challenge Però facciamo solo Una partita perché se no dura troppo il video Eh lo so Mattia vabbè è inutile che la fa perché tanto Non c'è il passo Non c'è il passo Vabbè però lui c'è una skin viola e una skin blu però Vabbè però non fa niente Mattia non va Non fa questa challenge Eh fammi che la ricarica Eh certo però Ok Noo Vertex Devo fare le per... Perché? Guardate le popole le parti Oh ma ma ti ho abbandonato Mamma Io l'agendario E palle Morirò Però vabbè No no andiamo a foresta raga Andiamo a foresta Metti se non è a foresta così Mattia lo capisce Va Perché qua ci trovo Non so che termine l'agendario Sa sempre si trova Eh sì certo se ne trovo Eh vabbè Marta di sera la quarantena Allora I colpi però valgono Sì valgono i colpi Eh lo so lo so Che esiste Ho scelto i leggendari Vediamo un po' Noo il pompa tattico E qua Una pistolina Vabbè Olè olè Un due tre Noo Eh meglio che bastardo Eh meglio che bastardo Medikit Ok Ok Dai il pompa Fa schifo questo E meno male che si trovano le armi legendarie Eh ma si vince Eh ma si vince Subito ci uccidevano Cazzo 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 Eh ehm Eh ehm Eh ehm Me lo puttano Oh una cazzo Con gun Uno scarro E vaffanculo Bebo merda E vaffanculo E me non c'è così tanti armi Non mi sa come Vabbè ragazzi Io prendo il pompa E me la potenza Perchè se no c'è E che cazzo fa? Ma a te cosa? A te è epica Io mi potrei fare le pompa La viola No perchè lo devo fare le gelare Mi va bene Aspetta Ehm Fa là dentro Ehm Let's see Wow wow ma da quanto dai il punto che forte lì tu? Un mezzo a scassare A me serve solo ferro praticamente Se prendiamo un po' fa fucile blu me lo puoi dare un attimo Un attimo poi me lo devo potenziare Ehm La M3 non si può potenziare Perchè cazzo? Perchè? Eh perchè non le ho tol' la msg La come cazzo di cazzo Vabbè A me lo faccio Io se mi piace il pompa E non te la darò mai Ah 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 Ehm 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 200 200 200 Mi sarebbe per arrivare Ehm Ma non è face Ehm Ehm oh mi sarebbe solo mattone a me ah boh in giro sarò le pietre quindi volendo che già fai io non lo so ok sono arrivato posso fare il pompa leggendario guardate quanto è bella sta copertura appena riavviate fortnite vi da questa copertura perchè è gratis ve lo tassi solo l'epic games ve lo tassi solo l'epic games ve lo tassi solo l'epic games nooo porco perchè ho spiegato i materiali ok ok sono arrivato al numero 200 ok faccio un attimo stessi cilidini un po' più scia insieme a me perchè eh ok ora ce lo facciamo raga olè pompa leggendario eh però ma mi servirebbe qualcosa no no perchè me lo potrei potenziare è vero eh me lo posso potenziare no e il pompa si se lo trovo si no lo vorrei tanto con le smg oh ca oh oh non ho sparato oh ma è nabbo può? eh no lo posso uccidere? viene qua vieni qua ahhia ahh ahhia ahhia oh puoi venire quella puttana troia no deve morirci soffocato oh sta per un altro qua mi uccide mi uccide mi uccide mi uccide vabbè ragazzi perchè questo video mi sarebbe giù ale butale eh lo so però un sale vabbè ragazzi per questo video mi sarebbe lasciato un bel like e iscrivetevi al canale per questo video mi sarebbe giù un bel like e iscrivetevi al canale poi vi salta anche tutto vi salta i miei video e vi salta bella ciao